Oggi mi sento molto ma molto rilassato. Sono il vostro dottore Valeriana, Valeriana. Online, 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 online. Se avete bisogno chiamate, chiamate, chiamate. Vibra, 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 vibra. Pronto, 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 signora, mi dica, mi dica, che c'è, che c'è, che c'è? Sua nonna ha il diabete troppo alto. Pronto, non si preoccupi, acqua e zucchero tre volte al giorno. Così completiamo il sistema. Vibra, 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 vibra. Pronto, 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 mi dica, signora, mi dica, che mi dica. Non ci vede bene da un occhio. Non si preoccupi, le prescrivo delle gocce, delle gocce di novalgina. Così non le viene neanche più il mal di testa. Li vuole, li vuole, gli rito io, 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 io. Vibra, 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 vibra. Pronto, 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 signora, mi dica, mi dica, non respira bene, non si preoccupi. Avvicina il telefonino sulle spalle. Respiri, signora, dica 16,5. Dica 16,5. Le ho detto, dica 16,5. Signora, non si dice più 33. O mai siamo i Neuro. Oggi mi sento molto, ma molto rilassato. Se avete bisogno del dottor Valeriana, contattatemi. Arrivederci, 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 arrivederci. Grazie. Grazie.